Continua la gara delle pillole di condivisione, l'avete fatto a me. Anche oggi, questa mattina, alcune famiglie hanno portato un loro dono come offerta per venire incontro a chi sta nel bisogno. Almeno 4 o 5 famiglie hanno compiuto questo gesto. Tutta la settimana vogliamo continuare ad avere un cuore generoso. Forse abbiamo preso anche il Salvatanai della Quaresima. Potrebbe essere anche questa una bella occasione per poterlo consegnare. È vero, la Chiesa è chiusa, però sempre possiamo bussare, venire. Cercando di non uscire di casa, quando si esce per un'altra necessità, si può anche compiere questo gesto. Non vorrei che fosse interpretato in modo sbagliato, così come è stato questa mattina. La Chiesa, stava scritto sull'invito, è aperta, ma non per la preghiera, non per avere una massa di persone. La Chiesa è aperta unicamente per un saluto a Gesù, ma per quelle persone che già escono per altri motivi. Non uscire per venire in Chiesa, perché la Chiesa è il nostro cuore e sta ovunque noi ci troviamo. Intanto possiamo programmare, ecco così, i gesti di solidarietà, perché, ecco, chi ha fame non può dire va bene, mangerò la prossima settimana, verrò un'altra volta. No. Grazie per aver partecipato. Vi faccio l'augurio di una Santa Domenica delle Palme, un augurio di pace, di fraternità, di gioia e di speranza, che presto, ecco, questa epidemia ci permetta di ritornare a una normalità di vita. Grazie, buon prosieguo. L'appuntamento è sempre per domani, alla stessa ora, per tutta la settimana. Allora, condivideremo questo momento di preghiera. Poi, anche giovedì e venerdì, la celebrazione che faremo in Chiesa, della Messa in Cena Domini, la liturgia dello scoprimento della Croce, sarà in diretta. Ciao a tutti. Grazie per la vostra partecipazione. Grazie. 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 Grazie.